Le vaccinazioni rappresentano uno degli interventi di maggiore efficacia per la prevenzione primaria delle malattie infettive e sono uno strumento essenziale per la salute della popolazione e soprattutto dell'infanzia. Raggiungere e mantenere elevate coperture vaccinali è il mezzo per garantire alla popolazione la scomparsa o il controllo di alcune importanti malattie. Secondo il report effettuato dal Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 1, prendendo in considerazione le coperture vaccinali 24 mesi identificata come prima fotografia si rileva che tra le vaccinazioni contenute nell'ese valente obbligatorie che comprendono poliomilite, difterite, tetano, pertosse, epatite B registrano un incremento del 91,75% al 93,70%. Invece per quanto riguarda il morbillo, parotite e rosolia si registrano un incremento dall'81,91% del 2016 al 91,50% al 2018, quasi il 10% in più. In particolare nel distretto di Pesaro la copertura è arrivata all'89,47%, nel distretto di Urbino al 96,89% e al distretto di Fano al 96,34% ottenendo un ottimo risultato. Vaccinarsi per la varicella a molti sembra qualcosa di poco utile, in realtà ecco quando la gente comincia a capire che anche la varicella è una malattia importante, che la varicella può conseguire una successiva malattia che è l'herpes zoster, comunemente noto anche come fuoco di Sant'Antonio e che i dati che abbiamo a disposizione dicono come sostanzialmente si riesca con una vaccinazione che oggi è quindi diventata gratuita, perché non è che non avevamo il vaccino, ma il vaccino non era nelea, era pagamento e si può prevenire conseguenze importanti relative appunto a questa malattia e si vaccina, perché un dato così, pur non essendo un dato parlo 95%, in pochi anni, in due anni, in 75% è un dato elevato, importante, quindi questo dimostra la sensibilità anche della comunità fanese alle vaccinazioni. Per quanto riguarda le coperture vaccinali legate al morbillo, parotite e rosolia, il distretto di Pesaro ha ottenuto l'86,28% di copertura, quello di Urbino il 97,20% e il 93,64% invece per il distretto di Fano.